Il giorno dopo il figlio ci ha fatto un imedi ringraziamento, sia a noi che l'ha fatta anche all'azienda utilizzatrice, per la disponibilità. Vorrei ringraziare tutti voi che vi siete dati da fare, che avete fatto il possibile. Ha voluto tirare quella corda, tutto per una pensione. Parole contenute nella lettera inviata dal figlio di Paola Clemente il giorno dopo la morte della mamma nelle campagne di Andrea all'agenzia interinale Infor Group di Noe Cattaro, alla quale si era rivolta un'azienda agricola di Corato. Si trattava di un'uva abbastanza di qualità e quindi siccome la nostra agenzia ha personale altamente qualificato quindi ci hanno richiesto personale all'altezza. Per la Infor Group Paola aveva lavorato per 15 giorni, 4 a maggio, 2 a giugno, 9 a luglio, regolarmente retribuita come da contratto per 6 ore e 30 al giorno. Il contratto previsto, che è il contratto agricoltura provincia di Bari, livello 3-2, è quello dell'acceleratura. La signora ha preso la paga prevista che era mi pare intorno ai 45-46 euro, non mi ricordo, però quello parliamo di netto. E contesta accuse di irregolarità. Sì, operiamo nella totale e poi oltretutto siamo agenzie autorizzate dal Ministero, quindi tenuti sotto stretto controllo, quindi sotto paghe che dicono che a noi non esistono, assolutamente. Paghiamo a norma di legge, a norma di contratto. Non so se poi la signora prima di noi ha avuto delle esperienze con situazioni magari non certo legali. E per quanto riguarda il trasporto, tutto regolare? Noleggiamo presso agenzie di viaggio regolarmente autorizzate, bus turismo. A carico del lavoratore? No, no, no. Il trasporto è totalmente a carico dell'azienda utilizzatrice.